Cuori nero azzurri, un saluto da Kiev, pronti per gara 2 e inizia in questo momento il match. E c'è questa bella apertura per Solomon che arriva al limite dell'area, l'israeliano carica al destro, mamma mia. Pericolosissima questa azione del numero 19 Solomon che va a calciare cercando il palo alla destra di Samira. La palla per Barella, vediamo sono rientrati loro, Nick carica al destro, palla a giro, la traversa! Inter vicinissima e gol con Barella che mette un destro a giro. Allarga per Solomon, pericolo attenzione, Solomon palla dentro, si può girare a Lampatric, Murato, il tiro fuori di Tete. Parte Dima, palla dentro, una mischia, Dzeko! Tappin mancato da due metri, incredibile, occasionissima. Rivediamo la spizzata, rimpallo in realtà su De Vrij, non riesce. E da lì da posizione ghiottissima, manda alto ma era un'occasionissima. Solomon che allarga per Tete, sovrapposizione di Dodò che guadagna il fondo, pericolo. Cross al centro, mamma mia! Occasionissima! Che arriva come una furia, no? In realtà l'anticipo è di Skriniar. Ci riproviamo con Correa. Cerca la veloce con Cialanoglu, ancora Correa. Carica al destro, palla a giro! E c'è una grandissima parata di Piatov. Fa un grandissimo intervento, mettendo il pallone in calcio d'angolo. Sale Skriniar, sale De Vrij, palla dentro, attenzione, colpo di testa! Ancora il miracolo di Piatov! A smanacciare via quel pallone, la angolata benissima. E l'abito, manda tutti quanti a fare la doccia. Finisce 0-0, un punto per uno. Finisce 0-0, un punto per uno.